Per quanto riguarda ovviamente il mercato del lavoro, la transizione digitale e la transizione ecologica sono due complessità che possono essere trasformate in opportunità per quanto ci riguarda. L'importante è che su queste complessità che riguardano il sistema sociale ed economico e in particolare il mercato del lavoro in Italia ci sia una forte alleanza e cooperazione con i corpi intermedi, con l'associazionismo a cui il governo centrale, lo Stato e l'alleanza con i corpi territoriari possano offrire uno sforzo comune, un elemento cooperativo. La cooperazione tra amministrazione centrale, amministrazione territoriale e corpi intermedi credo che sia la chiave vincente.